Il conto di come fare la cosa? Da caccia, da me e portata a me e da me Allora, non bello, vogliamo cercare Con i cappuccini al vetro, il caffè all'americana, il cocktail averidivo, caffè ammazza caffè, è ferrato? Perfetto E per quanto riguarda i conti? Per i conti vediamo di fargli alla fine Lei pensava di trovarsi davanti a questa eventualità? Speravo di no, comunque non vuol dire, va bene lo stesso Che tutto il paese in questo momento Stati fanno per lei e qualsiasi cosa Allora, facciamo una scommessa nella scommessa Nel caso in cui lei riesca a salvare la pellaccia E la puntata in nome per conto di Bargagli Domani tutto gratis Perfetto Perché è giorno di chiusura? Certo E la puntata in nome per la pellaccia Ma io sono venuti a costruzione Sono già da lui E mi è stato fatto Facciano Le vorrei ricordare Che ci sono già state due persone Nell'atto di questa edizione Via E la puntata in nome per la pellaccia Allora, è il giorno di normalmente Guardate Bello appunto Bello Allora Allora Mi non c'è la tanta Incredibile Grazie a tutti.